Prima della partita col Brasile, io e Marco siamo stati fino a una certa ora insieme svegli e parlare della partita che c'era il giorno dopo. Io e lui erano quelli che dormivano pochissimo, io bene o male dormivo poco ma stavo nella mia stanza ascoltare musica, vedere la tv, invece Marco era quello che dava più fastidio a tutti nelle stanze. Cercavo sempre di fare tardi perché non mi addormentavo mai. Perché dicevo qua bisogna stare svegli, ho capito, ma qualcuno deve più dormire almeno 5-6 ore. Andavo sempre a salutare Zoff e Shirea nella loro camera. Lui che era sempre agitato, arrivava proprio dalla nostra camera. Quella era chiamata camera svizzera perché l'ora alle 10 dovevo stare in stanze e nessuno doveva andare a disturbare. E quella notte la trovai chiusa, la porta, e non mi volerò aprire. Grazie a tutti.